Torna l'incubo del taglio a Pietrasanta, superati i livelli nella zona del cimitero e scatta l'ordinanza di non votabilità. Nostra intervista al vice sindaco Mazzoni. Primi rimborsi Enel per la tempesta di marzo riguardano le utenze di Lucca e della Garfagnana che subirono disservizi lo scorso 5 marzo. SCA mette in mostra i suoi gioielli presentato per la prima volta il bilancio Italia con l'occasione inaugurati due impianti che mettono la multinazionale dell'igiene fra le prime del mondo. Automia ma quanto mi costi Lucca risulta tra le città più care per quanto riguarda l'assicurazione delle macchine e purtroppo c'è chi non la fa. Ecco Cecco Baldini ben tornato a casa, presentato il nuovo allenatore della Lucchese, cresciuto nel settore giovanile rosso-nero, il 41enne tecnico di massa, torna nella società che lo aveva lanciato come calciatore. Il presidente Bacci fa gli onori di casa. Titano Ucci rilancia la sfida alla San Marino, sabato e domenica la quinta prova del CIR 2015. Il pluricampione Garfagnino Paolo Andreucci deve respingere l'assalto di Scandola con la nuova Skoda R5. A tutti voi un cordiale saluto, ben ritrovati dagli studi del TG Noi. Dunque purtroppo dobbiamo dire che a Pietrasanta è tornato l'incubo Taglio, i particolari nel servizio. Sembrava tutto più o meno risolto e invece a Pietrasanta è di nuovo emergenza Taglio. In seguito ai controlli effettuati il 7 luglio da Gaia è emerso nel punto di prelievo Cimitero di Pietrasanta un superamento del limite di taglio previsto dall'Agenzia Statunitense per l'Ambiente. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asle di Viareggio ha immediatamente proposto al Comune di Pietrasanta l'emissione di un'ordinanza di non potabilità riguardante un'area assai ampia. La zona compresa tra Via Nazario Sauro, Via Garibaldi e Via Treluci e quella della Via Sarzanese nella zona del Cimitero. Poi le utenze presenti su Via Martinatica e su Via Cannoreto, quella in Via del Castagno nel tratto compreso tra Via Sarzanese e il campo Pozzigaia. Il Dipartimento di Prevenzione ha chiesto inoltre di avviare urgentemente ulteriori campionamenti e di individuare le cause dell'aumento di taglio. I cittadini interessati dal provvedimento sono stati anche invitati a effettuare un campionamento delle urine in modo da poter misurare con maggiore precisione la concentrazione di taglio. Su questa vicenda che dunque torna a farsi preoccupante abbiamo sentito anche il Vice Sindaco di Pietrasanta, Daniele Mazzoni. Vediamolo e sentiamolo in questa intervista. Secondo quanto riferito da Gaia, nelle prime battute nella riunione tecnica che ci è stata subito nel pomeriggio di ieri è dovuto ad alcuni lavori che sono avvenuti sulla rete e anche a fatti contingenti perché si è spento un pozzo di approvvigionamento e questo ha creato un'inversione dei flussi. Questi flussi invertiti probabilmente hanno smosso delle sostanze che erano presenti all'interno delle tubazioni e per cui c'è stato questo sforamento. Le falde, i pozzi sono assolutamente privi da contaminazione, questo è il messaggio importante perché il problema da questo punto di vista è risolto e quindi la popolazione assolutamente è sicura. Purtroppo ci sarà un disagio, l'ordinanza di chiusura è stata fatta come estrema cautela per la salute dei cittadini, il perimetro non è ampissimo, abbiamo già chiesto le controanalisi che dovrebbero essere disponibili dalla serata odierna, massimo domattina, quindi io conto e spero di poter fare una revoca parziale, almeno parziale dell'ordinanza. La cosa importante che volevo sottolineare è altresì che fin dai primi minuti abbiamo avvertito la popolazione, quindi abbiamo mandato le pattuglie dei vigili urbani per avvertire e la protezione civile con le associazioni di volontariato che sono sempre pronte, ci hanno risposto immediatamente al nostro appello e quindi abbiamo avvertito la popolazione, abbiamo posizionato tre autovotti fin dalla serata di ieri sera per cercare di alleviare questo disagio, soprattutto ho fatto formalizzare dal responsabile dell'ufficio ambiente nella riunione tecnica un'adeguata relazione sulle cause perché dobbiamo capire perché non si ripeta quello che è successo. Come vi rapporterete con Gaia e Colas in questi giorni? Questi giorni estrema collaborazione chiaramente perché è interesse nostro capire quello che è successo proprio perché non si devono ripetere, ripeto le falde sono pulite per cui a questo punto va gestita la rete in modo corretto per evitare che ci siano delle contaminazioni. Vi terremo informati e aggiornati sull'evolversi della situazione del caso Taglio a Pietrasanta. Intanto cambiamo argomento, sono in arrivo gli indennizi per i residenti del territorio di Lucca e della Garfagnana che lo scorso 5 marzo a causa della forte tempesta di vento hanno avuto disalimentazioni elettriche di lunga durata. Lo ha comunicato Enel, i rimborsi valiano da 30 a 300 euro per utenze domestiche, da 150 a 1.000 euro per le piccole utenze non domestiche, mentre per le utenze industriali dipendono anche dalla potenza contrattuale e possono arrivare fino a 6.000 euro. Beneficeranno del rimborso tutti gli utenti che hanno avuto un'interruzione di energia elettrica di almeno 8 ore nei comuni con più di 50.000 abitanti, di 12 ore nei comuni tra i 50.000 e i 5.000 abitanti e più di 16 ore nei comuni più piccoli, ovvero quelli al di sotto dei 5.000 abitanti. I rimborsi verranno accreditati automaticamente in bolletta dalle rispettive società di vendita senza la necessità di alcuna richiesta da parte dei clienti. Un paio di notizie in breve di cronaca. Il commissariato di pubblica sicurezza di Forte De Marmi e la Polizia Municipale di Forte De Marmi hanno svolto in sinergia un servizio di prevenzione volto a contrastare il commercio abusivo di merce contraffatta che viene posto in essere soprattutto da cittadini extracomunitari nel centro e sulle spiagge della nota località turistica Forte Marmina. Sono stati controllati numerosi cittadini, risultati in regola con le norme di soggiorno e al termine del servizio sono stati comunque sequestrati 69 articoli di prodotti contraffatti. Ed ancora i carabinieri della stazione di Pietrasanta hanno arrestato in flagranza di reato Yarmouni Rashid di 22 anni, nato in Marocco senza fissa dimora, pregiudicato, senza permesso di soggiorno. L'uomo è ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lasciamo la cronaca e andiamo ad Alto Pascio dove Sky Italia ha presentato il bilancio sociale. Sky Italia, azienda leader mondiale nei settori dell'igiene e del forestale, ha presentato il primo bilancio sociale dedicato esclusivamente al mercato italiano. In questa occasione, alla presenza delle rappresentanze istituzionali di Capanno, Riporcare e Alto Pascio, Sky ha inoltre inaugurato ufficialmente due nuovi progetti per il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale. In particolare è stato realizzato ad Alto Pascio, per la prima volta al mondo nel settore tissue, un impianto di filtrazione delle acque piovane, che permetterà all'azienda di ridurre fino al 20% l'approvvigionamento d'acqua dalla falda sotterranea, con una diminuzione dell'emmungimento pari alla stessa quantità di acqua contenuta in 10 piscine olimpiche. Presso l'impianto Scallucca è stato invece realizzato un progetto di collettamento e trattamento delle acque di scarico, che ha portato questo stabilimento a posizionarsi tra i migliori tre siti di Sky Europa per il ridotto consumo d'acqua. Per noi questa giornata è molto importante perché la sostenibilità fa parte del nostro DNA e trovandosi lo stabilimento di Alto Pascio in una zona dove potrebbero presentarsi in certi periodi dell'anno della scarsità dell'acqua, volendoci comportare da buoni cittadini, abbiamo deciso oggi di presentare e di inaugurare alla presenza della pubblica amministrazione e delle autorità locali questi due nuovi impianti innovativi. Mirko Pagliai, 41enne pratese che era precipitato da un balcone di un appartamento a Lido di Camaiore e preso in affitto assieme ad alcuni amici, è deceduto dopo un'agonia pensata di ben 40 giorni all'ospedale di Livorno dove era stato trasferito dopo che in un primo momento era stato portato all'ospedale Versilia. Ed ora torniamo ad occuparci della vicenda legata al sindaco di Pietrasanta Massimo Mallegni. Tanti cittadini in fila per il sindaco sospeso fai da te. Una signora è dalle 7.30 che sta aspettando il sindaco sospeso per un problema, un'altra invece voleva semplicemente conoscerlo. Saranno una cinquantina alla fine della giornata i cittadini del comune di Pietrasanta ricevuti da Massimo Mallegni nella sede del comitato elettorale in via Oberdan, quartier generale della trionfale campagna elettorale. Dopo l'elezione al sindaco è infatti arrivata come una scura la sospensione per via della legge Severino. Ma lui non molla e come promesso riceve i cittadini tutti i giovedì mattina come da programma di mandato. Ad aiutarlo non gli uscerio il personale del comune, ma volontari che segnano i nomi, l'ordine d'arrivo di coloro che vogliono parlare con lui. Mallegni arriva, offre il caffè a un gruppetto di cittadini, apre la porta della sede, spalanca le finestre, sistema le sedie, il tavolo, il pc e inizia a parlare con loro. Le richieste e le storie sono le più diverse. Io sto ricevendo da privato cittadino, ha spiegato, anche se sono il sindaco eletto in questo comune. Oggi consegnerò il risponso degli incontri con i relativi contatti delle persone che ho incontrato all'URP del comune. Io resto al servizio della mia comunità anche da libero cittadino. Il vantaggio di ricevere fuori dal comune, dice ridendo, è che posso farlo in calzoni corti. Io sono il sindaco eletto di questa città, ho tutto il diritto di dialogare con tutti i miei concittadini, non sono né privato della libertà, né privato dell'intelligenza, né privato della mobilità e quindi io incontro chiunque dove mi pare e cerco di parlare con loro e portare anche un consiglio, una parola, eccetera. Da un punto di vista tecnico procedurale io faccio così. Oggi incontro i cittadini come li incontrerò nei prossimi giorni, poi il risponso di questo incontro lo depositerò all'URP come qualsiasi cittadino di Pietrasanta, quindi vado all'ufficio relazioni con il pubblico, mi faccio rilasciare la ricevutina delle cosine che gli porto, con i numeri di telefono delle persone che ho incontrato e spero poi che l'ufficio relazioni con il pubblico li trasmetta a tutti gli altri uffici e perché possono dare delle risposte concrete al cittadino che gli ha fatto questa domanda. Incontro a Palazzo Orsetti sulla vicenda, ce ne eravamo occupati pochi giorni fa, delle barriere architettoniche di Viale Castracani. A questo incontro hanno partecipato i vari assessori e le varie associazioni disabili. La risposta del Comune però non è stata confortante, non ci sono disponibilità economiche, ha detto il Comune, nonostante, dicono però naturalmente le varie associazioni, il quadro legislativo dica che tali barriere devono essere abbattute. Per quanto riguarda poi la delibera per il parcheggio a pagamento verrà fatta a settembre, come detto nei precedenti incontri, anche se aggiungono le associazioni disabili, ci vorrebbe davvero poco ad attuarle già nel mese corrente. Maggiore disponibilità hanno stata riscontrate invece da parte della CTT Nord in merito agli orari dei bus già in questo mese di luglio, sempre in merito a una vicenda, quella di Viale Castracani, di cui gioco forza dovremo tornare ad occuparci. Rimaniamo sulle strade dove naturalmente transitano le nostre automobili. È stata stilata una classifica delle città relativamente alla Toscana più care per quanto riguarda l'assicurazione auto e Lucca è purtroppo in questa speciale classifica ai primi posti. Quanto costa l'assicurazione auto in Toscana, in particolare a Lucca? A rivelarlo è un'interessante indagine condotta in questi giorni da SOS Tarife.it che ha individuato in quali città toscane l'RC Auto ha i prezzi maggiori. Secondo l'osservatorio Massa Carrara detiene il poco lusinghiero primato con l'assicurazione più chiara. Nelle due città puane il premio parte da 413 euro e sale fino a 1195, ma con la comparazione online i costi possono essere tagliati di oltre il 60%. Nella classifica delle 10 città capoluogo di provincia della nostra regione, Lucca si insedia ad un poco confortante terzo posto tra le più care, salendo quindi sul podio virtuale dove oltre a Massa Carrara troviamo anche Prato che occupa la seconda posizione. Nel dettaglio a Lucca il preventivo più basso ammonta a 371 euro e quello più alto a 1.258 con un risparmio del 70,4%. In assoluto la città dove l'assicurazione costa meno è Siena, che precede Grosseto e Arezzo. Di fatto bisogna sottolineare che la polizza per l'assicurazione auto è una delle voci di spesa maggiori che riguardano l'utilizzo dell'autovettura. È risaputo inoltre che il costo può variare da città a città a seconda delle quotazioni che le compagnie attribuiscono in base al profilo di assicurato, ma anche alle statistiche su infortuni e furti rilevate in una determinata area. Casomai vale la pena evidenziare con preoccupazione nel sempre più frequente fenomeno di automobilisti, si parla addirittura di un 10%, che in modo davvero incosciente e scelerato viaggiano privi di qualsiasi copertura assicurativa. Sarà anche il segnale della perdurante crisi, ma certo che non c'è da stare tranquilli. Quest'ultimo è un dato sconcertante su cui riflettere, il fatto che sempre più gente si metta per le strade a bordo delle proprie vetture oppure motociclette senza avere la copertura assicurativa. Adesso i turisti, ma anche i cittadini, potranno ammirare Capannori e la Piana di Lucca anche dall'alto, a bordo della Mongolfiera del Comune e di altri erostati che fanno parte della flotta di Milano-Mongolfiere. I voli liberi a pagamento, a bordo di palloni colorati, alcuni dei quali in grado di trasportare anche 12 persone, prenderanno il via ad agosto grazie ad una convenzione sottoscritta da Milano-Mongolfiere, la società che ha vinto la gara per la gestione della Mongolfiera istituzionale del Comune e la società aeroporto di Capannori. La nuova iniziativa è stata presentata nella sede aeroportuale. È finito di nuovo in manette il dottor Fabrizio Cinquini di Forte dei Marmi. Il teorico della cannabis terapeutica ci spiega il suo personalissimo pensiero, ripetiamo, il suo personalissimo pensiero su questo tipo di cure. In Gersilia è diventato famoso come il medico pro-cannabis. Si chiama Fabrizio Cinquini, ha 52 anni e abita a Forte dei Marmi dove esercita la sua professione. Il medico si batte da anni per l'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico. Sulla materia ha approfondito studi scientifici ed è sempre più sicuro che con il suo impiego certe patologie trovano eccellenti soluzioni. Non la pensano allo stesso modo i carabinieri della stazione di Forte dei Marmi che su segnalazioni di alcuni cittadini lo hanno fermato domenica mentre annaffiava a nottetempo 25 piante di marijuana di quasi due metri di altezza in un campo a Vittoria Puana. Il 52enne medico è stato nuovamente accompagnato nella caserma dei carabinieri di Forte dei Marmi e poi trasferito in carcere a Lucca a disposizione della magistratura che nel frattempo gli ha concesso la libertà. In passato il medico Forte Marmino era stato arrestato sempre con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti e anche questa volta il caso ha avuto molto risalto sulla stampa nazionale e gli appelli di partisan per la sua libertà sono arrivati da tutto lo stivale. La cosa che mi dispiace di più del carcere è l'impossibilità di proteggere dagli scemi esterni dalle denigrazioni, dalle umiliazioni dei malvagi che esistono nella nostra società questa è la cosa che più mi fa male. Questa pianta qui è la possibilità di passare da una quarta a una quinta generazione di marijuana nuove, di cannabis nuove quelle che chiamiamo le cannabis medicali quelle con un alto contenuto di principi attivi con un'efficienza che non è solo mirata alla psicoattività, alla psichedelia ma è più che altro mirata a avere effetti antinfiammatori effetti di stimolo sulla plasticità neuronale. Perché questa passione qua sullo stimolo della plasticità neuronale? Perché sono attualmente circondato da molti molti pazienti anziani con Alzheimer incipiente, perdita di memoria e mi sono accorto che la farmacopeia normale non può rispondere a queste esigenze qui attualmente può dare dei sedativi per evitare le crisi di furia può rendere questi dementi degli zombie camminanti ma non può la farmacopeia normale avere attualmente prodotti che danno un po' di vita normale ancora un po' di controllo su questa perda di memoria a questi ottantenni, 75 anni che hanno questi problemi. Nella sala del Consiglio Comunale di Massarosa è stato consegnato nel corso di una cerimonia davvero toccante un cane guida addestrato ad una persona non vedente il cane che vediamo in questa foto è un bel labrador di un anno di nome Teo ed è stato consegnato al termine di un service che il Lions Club di Massarosa è riuscito a concludere nell'anno lionistico 2014-2015 quindi Teo adesso potrà accompagnare questa persona ed è sicuramente questo un gran regalo per questa persona non vedente chiudiamo con una notizia legata al turismo Luca si conferma meta ideale per il relax e la cultura e quanto emerge dall'indagine Tourist Customer Satisfaction realizzata dalla Camera di Commercio in collaborazione con il Comune di Lucca e l'Istituto Tecnico Bertertini sull'indagine rivolta ad un campione di 450 turisti torneremo nelle edizioni dei prossimi giorni del TG Noi con un ampio servizio bene ed è tutto per quanto riguarda la prima parte del TG adesso ci fermiamo una breve pausa pubblicitaria ma torniamo subito dopo in primo piano la presentazione del nuovo allenatore della Lucchese Francesco Baldini grazie a tutti